E' un nuovo che poi è anche quello di prima, il Green Deal europeo che adesso dovrebbe essere rilanciato con qualche ritocco visto che il partito dei Verdi, che è quello che maggiormente l'ha spinto, è quello che di fatto all'elezione europea è uscito fortemente e ridimensionato dalle urne, sicuramente uno dei due partiti che ha perso di più. Ma diciamo che il tema del Green Deal tocca un problema reale, quello ambientale, al quale dà però delle soluzioni sbagliate Intanto Green Deal è un nome equivoco, da che il New Deal fu quello di Roosevelt e aveva al centro il tema sociale del lavoro Il Green Deal dell'Unione Europea trascura volutamente il tema del lavoro per sua scelta Il Green Deal è sostanzialmente la messa in atto dei principi fondamentali della Green Economy dove il Green in questione non è tanto quello dell'ambiente ma è quello dei dollari da che la Green Economy mira sostanzialmente a trasformare le tragedie prodotte dal sistema capitalistico in strumenti di business in fonti rinnovabili di profitto per il capitale. Detto altrimenti, il limite fondamentale del Green Deal mi pare duplice In primo luogo si prova a sostenere che bisogna continuare a fare lo stesso che facevamo prima tinteggiando di verde il sistema e producendo profitti per le grandi compagnie green In secondo luogo vi è un rischio evidentissimo che è l'attacco, l'ennesimo attacco alle classi lavoratrici e i ceti medi che dovranno adattarsi supinamente alle norme poste in essere dall'Unione Europea Per fare un esempio concreto, il tema delle case dovranno adattarsi gli europei all'efficientamento energetico e a tutte le norme conseguenti e questo comporterà inevitabilmente, a mio giudizio, che molti cittadini europei non saranno nelle condizioni di far fronte a queste richieste e saranno probabilmente costretti a vendere la loro casa, anzi a svendere la loro casa a grandi gruppi che faranno man bassa letteralmente Quindi ancora una volta dietro le nobilissime ragioni del green, dell'ambiente, della difesa della natura si nasconde insidiosa la longa manus del profitto gestito dalla classe transnazionale capitalistica che ha sede a Bruxelles e che si fonda strutturalmente sul neoliberismo radicale Basta leggere i trattati dell'Unione Europea dove compare ossessivamente la parola competitività e non compare mai la parola cooperazione, solidarietà, piena occupazione Questo è il punto, a mio giudizio, fondamentale Con una formula sintetica direi che peggio di Donald Trump c'è solo Kamala Harris Trump non è una speranza, non è la salvezza e però io temo che mali molto peggiori possano derivare dall'eventuale presidenza di Kamala Harris per tre ragioni fondamentali Sulle politiche interne abbiamo il neoliberismo selvaggio che distrugge diritti sociali che peraltro in America sono molto limitati e impone la privatizzazione totale Sul piano delle politiche sociali e dei costumi abbiamo il WOC, l'arcobaleno che è complementare alla liberalizzazione di tutto senza riserve E poi sul piano della politica estera credo che sia l'aspetto più pericoloso per la nostra Europa da che Kamala Harris non è altro se non un Joe Biden al femminile e quindi propugna di fatto quelle politiche imperialistiche, bellicistiche che stiamo tragicamente sperimentando Ormai è evidente a tutti, credo che la guerra in Ucraina non sia altro se non la guerra della NATO e dell'Occidente liberale atlantista contro la Russia colpevole di non piegarsi al nuovo ordine mondiale americano Sul piano delle politiche del Medio Oriente stiamo assistendo all'appoggio incondizionato e sciagurato degli Stati Uniti a Israele e alle sue politiche che sono anch'esse politiche imperialistiche in nome del diritto di Israele di difendersi e di combattere il terrorismo viene concesso a Israele di compiere una strage di innocenti di colpire stati sovrani indipendenti come l'Iran Insomma, sul piano della politica internazionale credo che un eventuale governo di Kamala Harris possa esprimere il peggio di sé Tra l'altro sorprende che sia stata salutata al congresso di Chicago come la paladina della democrazia, così è stata definita da Biden Ora, bisogna intendersi sul concetto di democrazia Io personalmente ritengo che gli Stati Uniti non siano affatto una democrazia essendo invece una plutocrazia neoliberale a base imperialistica e nei rapporti esteri si vede massimamente questo aspetto non democratico Abbiamo visto guerre imperialistiche con bombe intelligenti missili democratici, embarghi terapeutici presentati come il tripudio della democrazia Ecco, io credo che possiamo criticare finché vogliamo la Cina, la Russia, l'Iran senza però dimenticare il fatto che l'Occidente non è poi quella democrazia che continuano a dire di essere e gli Stati Uniti lo rivelano quotidianamente Torniamo per un attimo anche Aveva per esempio Marco Rizzo Sono d'accordissimo, è perfettamente così c'è evidentemente un Occidente che io da tempo chiamo Uccidente che sfrutta da tempo l'Africa produce questi flussi migratori che non vengono accolti e integrati come si è soliti dire ma diventano braccia a basso costo che vengono sfruttate dalla ragione capitalistica producono concorrenza al ribasso tra i lavoratori e giovano alle classi dominanti che possono soffiare sul fuoco del conflitto orizzontale fra gli ultimi ora divisi tra migranti e autoctoni Intendiamoci, in astratto nel regno delle utopie l'idea dello ius scole potrebbe anche essere di buon senso ma nel mondo concreto della concretezza storica dove i diritti sono in calo per tutti dove la ragione capitalistica sta producendo un taglio lineare dei diritti del lavoro questa introduzione dello ius scole non farebbe altro che potenziare la miseria dei lavoratori e dei ceti medi anche perché diciamolo apertamente una volta accolti tra virgolette i migranti trasformati in cittadini a quali condizioni di lavoro, di vita, di diritti vanno incontro è chiaro che se i diritti già sono pochi per i cittadini italiani e sono anzi in calo da molti anni porli in concorrenza, in competitività per i pochi diritti con i nuovi arrivati non produce come pure sarebbe auspicabile una estensione dei diritti a tutti ma produce un abbassamento dei diritti per tutti produce l'effetto esercito industriale di riserva cioè competitività al ribasso piccola parentesi visto che abbiamo l'esperto produce anche criminalità e tra l'altro oltre ad aumentare la criminalità perché poi si produce abbassamento delle condizioni di vita per tutti c'è anche un altro concetto importante si sta svuotando il concetto di cittadinanza degli stati nazionali l'aveva già intuito Giacomo Leopardi che nello Zibaldone diceva una volta che tutti furono cittadini romani Roma non ebbe più nemmeno un cittadino cosa vuol dire questo? vuol dire che stiamo assistendo alla distruzione del concetto di cittadinanza nella misura in cui si tende a diventare tutti immediatamente cittadini dello Stato con facilità e questo è pericoloso non già perché genera diritti anche per i migranti magari fosse così ma perché viceversa tende a rimuovere i diritti per tutti producendo come dicevo poc'anzi uno svuotamento stesso del concetto di cittadinanza lo si vede a... grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti